Buongiorno dottore, per curiosità un clistere di quelli belli grossi ce l'avete? Sì glielo prendo subito. E la macchinetta per misurare la glicemia ce l'avete? Certamente signora. Ah dottore, anche i pannoloni per l'incontinenza perché... Sì una scatola. E due confezioni di antidolorifico? Subito. Due padelle, una quando sta dentro al letto che sta male. Sì. Quando uno ha una certa età. Certo signora. E una pomadina per gli emorroidi. Oddio scusa l'insulina per il diabete. Sì. Quindi non ho capito... Oddio la crema per i vene varicosa. Pure. A me le pasticche per la pressione e per la colite. Per la pressione. Allora in totale... A me mi servono pure gli anti aromatici. Sì. E una bella peretta. Come questa. Sì. Pure un pappagallo. E un pappagallo. Basta così? E tutta sta roba quanto ci viene a costa? Sono 225 euro. Che dici potrebbe andare? Ma pensiamoci un attimo. Andiamo va. Beh dannate. Ma non comprate niente? No. Perché noi ci sposiamo tra un mese. È vero amore. Se i prezzi rimangono questi la lista di nozze la facciamo qua. Se noi ce ne andiamo in un'altra parte. No. Ma arrivederci.